veramente adesso così al parcheggio macchina ok va in parcheggio macchina sempre in potenza si mette in potenza pulsante blu è il start sulla colonnina start sulla colonnina e lei va in parcheggio ok adesso sta parcheggiandosi poi questa diciamo è un'azione da fare con la sera quando la spegno scarico con l'utensile certo sempre TRN per la colonnina e sta scaricando l'utensile la macchina si potrebbe spegnere tutta quando poi si riaccende per fare l'azionamento mentre sempre la macchina è in potenza la macchina è in potenza pulsante blu si da un end e un set point set point si la macchina sta facendo gli azzeramenti in questo lato qua è solo lì non c'è che è in parcheggio una volta che ho finito set point ok perfetto